Buongiorno senza giacca, lo Zoria ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, la Roma ieri ha battuto il Real CSKA di Sofia impiccandosi la partita ovviamente perché sul 3-0 ha vinto da Roma 3-2, negli ultimi minuti abbiamo rischiato anche di pareggiare quando hai ripreso la testa di un girone con delle squadre improbabili e improponibili in una grande torneo che lascerà la storia del calcio europeo che è la Conference League dove il vincitore porterà a casa un trofeo economico in danaro che sarà meno del passaggio del primo turno di Champions League. Ecco appunto partiamo dai numeri, dalle cifre, questa Europa Conference non serve a niente, serve solo a intasare i campionati, serve solo a fare infortunare i calciatori, siamo andati a giocare ieri a Sofia in un campo definito dall'allenatore del CSKA, pietoso e disastrato e Murigno che mi combina a un quarto d'ora alla fine mi mette dentro Zaniolo e Zaniolo dopo 5 minuti si infortuna in una squadra che onestamente è ancora inguardabile dove le perplessità soprattutto societarie ancora tengono banco, la Roma ha passato un turno in un girone che doveva passarlo come dico io con le ciabatte e il sigaro perché le partite erano sinceramente partite ridicole però abbiamo voluto lasciare il nostro segno e lasciare una storia, una pietra miliare indelebile in questa Conference dove tu hai preso per la prima volta 6 gol e quindi quale sarà la prima squadra che ha preso 6 gol in Conference? La Roma. Benissimo, archiviamo questo girone eliminatorio, abbiamo evitato l'onta di arrivare secondi e quindi fare gli spareggi con le squadre che vengono dall'Europa League, se ne riparlerà per fine febbraio, primi di marzo, una coppa che onestamente definire ridicola è minimo ma che serve al dio pallone, al dio televisione e tutto quanto altro. Signori adesso andiamo a Spezia a spezzare le Lerreni anche allo Spezia, squadra ridicola, contento solo per il gol di Borca Majoral archiviato inspiegabilmente da questa società che secondo me non è un campione ma è un buonissimo giocatore e credo che questa società avrebbe dovuto avere un po' più di rispetto se non altro per alcune persone. Per il resto test al campionato e adesso aspettiamo il mercato.